Tutti i restanti passeggeri del volo Kizom Airlines, K29 per l'Ontra in Frozzo, pregati di recarsi al Ghetto B-15. Buongiorno a tutti, qui è il comandante Robin Allen che vi parla. Il volo di oggi avrà una durata di 6 ore e 54 minuti. Trastate ai nostri posti! Su, subito! Su! Qui l'operazione è cominciata. Telefoni, tablet. L'aereo è sotto controllo. Dovete venire a vedere. Le volte non erano così. Qualcuno sta chiedendo aiuto. Hai una famiglia, persone care. Abbiamo un solo compito, ora dobbiamo farcela per loro. Ho ricevuto un messaggio dall'aereo. Papà dice, problema a bordo. Che lavoro fa tuo padre esattamente? È difficile da spiegare. Sam è il più bravo a gestirla. Gestire cosa? La negoziazione. Ci saranno tipo 200 persone su questo volo. se provano a fare qualcosa. questo aereo precipita, voglio solo tornare a casa dalla mia famiglia. Lascia solo che ti dica la mia inferta. È stata appena consegnata una busta con scritto richieste. Si è andato tutto storto nella prima ora. Immagina nelle prossime sei. Dobbiamo far arrivare loro un messaggio. Dobbiamo essere pronti. Sono in atto altri piani. Ci sono cinque passeggeri che non compaiono proprio. Una rete che attraversa tutta l'Europa. Per loro siamo un missile in arrivo. È o noi o loro. E lascia che te lo dica, non saremo noi. Per loro siamo un missile in arrivo.